è molto importante spero che diventi anche bella perché vuol dire che allora sarà un piacere per tutti giocarla e essere partecipi a questo incontro che sicuramente dà spessore al campionato di tutte e due le squadre e ci portiamo rabbia e l'idea che in certe situazioni dobbiamo insieme migliorare l'interpretazione di certi momenti della gara.